Al momento è chiaro che c'è un guadagno per i gestori aeroportuali, sia dal gheroso di Olbia, meno costi, meno personali e più ricavi, con il volo alle 8.55. Posso fare, vi dico una cosa che magari voi non sapete o magari la sapete, parliamo di Ryanair che fa così tanti utili, Amazon, voi conoscete tutti Amazon, voi pensate che il business di Amazon sia portare la merce, i prodotti nel più breve tempo possibile, nel prezzo più basso. Se guardate il bilancio di Amazon, il 23% del bilancio di Amazon è dato dalla consegna e dalla vendita dei prodotti, il resto Amazon vende i dati, vende i dati di tutti quanti, perché Amazon conosce tutto, conosce i tuoi gusti, cosa compri, a che ora lo compri, quando lo compri, perché lo compri, con che frequenza lo compri.